Il 3 febbraio si è tenuta a Galleria Borghese una cena molto particolare, innanzitutto particolare perché la Galleria Borghese lo sappiamo bene, non si può certo mangiare, organizzare feste e cene, invece in questo caso si è tenuta un evento molto interessante che riguardava una nuova associazione che ha a che fare con il mecenatismo, quindi a favore dell'arte. E chi erano i partecipanti? Personaggi piuttosto famosi, Bertinotti, Melandri, Elkan, Caltagirone, Letta e molti altri. Cos'è successo? Hanno utilizzato e hanno anche cenato lì, quindi il servizio di catering ha anche messo una cucina mobile sopra i basamenti di Tufo e vicino o accanto o attaccato a delle opere d'arte. Tutto questo secondo la ricostruzione fatta dal Fatto Quotidiano qualche giorno fa. Quindi il Movimento 5 Stelle adesso chiede una cosa molto chiara, molto precisa. Vuole sapere, uno, se è vero. Abbiamo visto il video quindi sospettiamo che lo sia. Due, sapere esattamente quali sono stati danni e vogliamo sapere chi e come pagherà.